Irsina e Gensano tornano zone arancioni come il resto della regione. E' scaduta infatti oggi l'ordinanza del presidente Bardi che aveva previsto restrizioni più pesanti per i due comuni alla luce della situazione dei contagi. Non ci saranno proroghe del provvedimento, ha spiegato il rappresentante della regione durante la riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza tenutasi stamane in prefettura a Potenza. Dunque saranno dismessi i servizi di controllo disposti agli ingressi dei due paesi e i militari dell'esercito impiegati nella vigilanza potranno essere dislocati altrove. Andranno a rafforzare in particolare i controlli sul rispetto delle norme in vigore fino al prossimo 3 dicembre e cioè il divieto di spostamento tra regioni e comuni se non in casi eccezionali e la chiusura di barre e ristoranti che possono effettuare solo il servizio da asporto a domicilio. Con un'apposita ordinanza sarà varata questa nuova pianificazione dei controlli che saranno eseguiti sempre con l'impiego oltre che della Polizia Municipale messa a disposizione dai vari sindaci anche con il concorso dei militari dell'esercito dell'operazione Strade Sicure. Quindi nuova pianificazione, rimodulazione dei servizi che saranno più severi in relazione all'aumento che sta registrando il contagio in questi ultimi giorni.